Ikea Italia disdetta l'integrativo aziendale applicato ai 6.000 dipendenti. Sindacati non ci stanno e proclamano un pacchetto di 16 ore di sciopero. Dell'orefice, atto unilaterale spropositato, negoziato per il nuovo contratto solo alle battute iniziali. Autogrill, la multinazionale, annuncia interventi finalizzati al recupero di produttività. Vanelli, apprezziamo le garanzie sul mantenimento dell'occupazione. Ora si individuano adeguati livelli di tutela contrattuale per gli 8.000 dipendenti italiani. Contratto turismo, riprendono i negoziati con Federturismo e Confindustrialberghi. Prosegue invece lo stallo con Fipe, Angem, Fiavet e Confesercenti. Pirulli, ad oltre due anni dalla scadenza, urgente definire i punti condivisibili. Coop estense contro gli esuberi e le terziarizzazioni nella divisione sud in Puglia e Basilicata, Fisaskat, Filkams e Wiltux scendono in piazza. Il 4 giugno lo sciopero, ma siccia l'adesione alla mobilitazione. Trade unions together for quality jobs. In Polonia, Danzica, il congresso di Un Europa Commerce. Raineri, la sfida del sindacato europeo del commercio, sarà quella di contrattare il benessere. Oltre al salario, prioritario determinare sussidiarietà e welfare per i 30 milioni di addetti. Per la nostra rubrica dei territori faremo tappa in Sicilia, Calabria, Puglia e nelle Marche. Bentornati al TgLab. Salta l'ingranaggio contrattuale che finora ha tenuto insieme i pezzi delle relazioni sindacali all'IKEA. L'azienda svedese ha annullato unilateralmente la contrattazione integrativa applicata agli oltre 6.000 dipendenti dei 21 punti vendita italiani. Una decisione, quella del gruppo, che arriva proprio nella fase iniziale dei negoziati per il rinnovo del contratto dell'integrativo aziendale. Immediata la replica dei sindacati di categoria Fisaskat, CISL, Filcams CGL e Wiltux, che rispondono con la proclamazione dello stato di agitazione ed un pacchetto di 16 ore di sciopero, 8 a livello territoriale e 8 a livello nazionale, decisi al termine del coordinamento unitario convocato a Firenze. Si tratta di un atto incomprensibile e spropositato, ha affermato il segretario nazionale della Fisaskat, Vincenzo Dell'Orefice, in quanto il negoziato è solo alle battute iniziali. Infatti, in occasione degli ultimi incontri di trattativa, la direzione aziendale ha sottoposto ai sindacati alcune proposte per modificare la struttura del salario aziendale. Per la Fisaskat restano confermati gli incontri già programmati per il 12 e 25 giugno. In quella sede, anticipato Dell'Orefice, faremo quanto è necessario per ridare alle lavoratrici e dai lavoratori un contratto integrativo in grado di valorizzare il loro prezioso contributo professionale. E ancora auspico che anche per Ikea riconoscere un congruo trattamento, sia in termini economici che normativi, a quanti con il proprio apporto quotidiano le consentono di affermare un'indiscussa leadership commerciale, ha concluso il sindacalista, sia un obiettivo da perseguire in questa tornata negoziale. Ed ora parliamo di Autogrill, primo operatore nel mondo nei servizi di ristorazione, presente in 38 paesi con circa 62.800 dipendenti e più di 5.300 punti vendita in oltre 1.200 località e che in Italia occupa oltre 8.000 addetti. La multinazionale, che opera prevalentemente tramite i contratti di concessione all'interno di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie, con presenze selettive nelle città, nei centri commerciali, nei poli fieristici, nei musei e in altri siti culturali, ha annunciato ai sindacati italiani la messa in campo di interventi per aumentare la produttività e la competitività del costo del lavoro. Operazione da realizzare, propone la multinazionale, attraverso la rivisitazione della contrattazione integrativa, della quale comunque si conferma la validità. Si tratterebbe di interventi per il riposizionamento di alcuni costi di gestione non più rinviabili, ha sottolineato la direzione aziendale, motivati dalla perdita di 22 milioni di euro di fatturato nel 2014 e da un andamento poco confortante degli utili anche per il primo trimestre del 2015, con un meno 8%. Per la Fisaskat si tratta di un percorso non privo di difficoltà e di incognite. Degli attuali 240 locali attualmente presenti nella rete autostradale italiana, 98 andranno in scadenza di concessione nel 2015. Nei prossimi 5 anni andranno in gara 174 locali, più della metà di quelli in gestione. Su questo tema i sindacati hanno informato il governo, con la precisa richiesta di partecipare alla discussione, finora rivolta esclusivamente ai concessionari autostradali, alle aziende petrolifere e alle imprese della ristorazione. Fisaskat, Filcamps e Wiltux hanno proposto ad Autogrill di condividere una posizione comune sul mantenimento dei livelli occupazionali. Le perplessità della Fisaskat riguardano anche la fase di stallo negoziale con la FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi aderente alla ConfCommercio, per il rinnovo del contratto nazionale del turismo. L'incertezza sull'avanzamento delle trattative e sulla destrutturazione degli attuali assetti della contrattazione, proposta dall'Associazione Datoriale, pesa anche sullo stato della contrattazione a livello decentrato. Lo stallo del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale del turismo prosegue anche con Angem, Fiavet e Confesercenti, mentre è ripreso il confronto con Federturismo e Confindustrialberghi. Per i sindacati è necessario individuare una soluzione negoziale, normativa e salariale, ad oltre 25 mesi dalla scadenza del contratto, identica alle intese finora siglate nel settore, Confederalberghi e Faita, fermo restando la disponibilità di individuare tempi diversi per l'erogazione degli aumenti economici. Su questo tema si è registrata un'apertura delle due associazioni che hanno proposto di allungare la durata del contratto fino al 30 aprile 2016, tra gli altri temi su cui sarà possibile sviluppare un confronto condiviso, quello del nuovo modello contrattuale. Il negoziato è aggiornato al 16 giugno prossimo e sarà preceduto da un incontro con le strutture e i delegati. Crediamo sia urgente definire punti condivisibili sui quali sarà possibile stringere il negoziato, ha dichiarato il segretario generale aggiunto della Fisaskat Giovanni Pirulli. Due anni di attesa sono davvero troppi per oltre un milione di lavoratori e lavoratrici e la massiccia adesione allo sciopero del 15 aprile scorso ne è la dimostrazione. È arrivato il momento di completare il percorso dei rinnovi contrattuali nel comparto turistico, ha concluso Pirulli. Torniamo ad occuparci della vertenza Coop Estense. Altissima l'adesione allo sciopero indetto dai sindacati per il 4 giugno nei negozi della divisione Sud in Puglia Basilicata. La protesta contro il pieno di esuberi che ha coinvolto 147 lavoratori e per manifestare il dissenso sull'atteggiamento della cooperativa in sede negoziale. In particolare Coop Estense non ha avanzato una soluzione accettabile sul trattamento economico da applicare alle prestazioni domenicali e festive, in alternativa alle attuali previsioni del contratto integrativo aziendale. Le perplessità dei sindacati riguardano anche la proposta relativa all'esternalizzazione dell'attività del grocery degli ipermercati connotati da maggiori problemi in termini di risultato gestionale per Fisaskat, Filcams e Wiltux. Tale operazione, per quanto presentata come una soluzione marginale, limitata al solo rifornimento degli scaffali da effettuarsi in onario notturno, se non opportunamente regolata, potrebbe comunque creare degli esuberi fra i lavoratori dipendenti da Coop Estense attualmente impiegati in quelle attività. Per le notizie internazionali, questa settimana facciamo tappa in Polonia. Si è svolto a Danzica il congresso di Un Europa Commerce, Trade Unions Together for Quality Jobs, è stato il tema della conference che ha analizzato gli effetti della crisi finanziaria nei diversi paesi dell'Unione. C'è stato un confronto anche sui compiti e sulle funzioni dei comitati aziendali europei e sul ruolo del dialogo sociale per migliorare le condizioni di lavoro nel commercio, settore che nel continente europeo occupa oltre 30 milioni di lavoratori, 19 milioni nel commercio al dettaglio e circa 11 milioni nel settore della grande distribuzione. Cifre destinate a crescere, secondo l'Eurostat, entro il 2025 il comparto registrerà un'espansione in termini occupazionali con quasi 4 milioni e mezzo di nuovi occupati. La sfida del sindacato sarà dunque quella, alla luce dell'evoluzione delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli commerciali, di contrastare il peggioramento delle condizioni lavorative e di accrescere le competenze degli addetti del commercio con interventi di formazione professionale mirata. Il Comitato Esecutivo di Un Europa ha approvato il pieno di azione del prossimo quadriennio di attività, sviluppare strategie per l'occupazione dei giovani, delle donne e degli immigrati e mirate all'accrescimento del salario attraverso azioni contrattuali, ma anche legislative. Fondamentale sarà in tal senso il ruolo del dialogo sociale e dei comitati aziendali in Europa, finalizzando l'attività del Movimento Sindacale Europeo alla definizione di accordi quadromondiali che contemplino penalità in caso di violazione dell'intesa a livello di singolo Paese. Gli accordi dovranno definire le condizioni normative e salariali del lavoro atipico, domenicali e festivo. Al Congresso ha preso parte anche una delegazione Fisaskat, il terziario al settore dove si potranno sviluppare nuovi modelli di produzione economica e di occupazione lavorativa, ha detto il segretario generale Raineri, sottolineando che il ruolo del sindacato sarà dunque quello di contrattare non solo la retribuzione, ma anche il benessere attraverso nuovi modelli di sussidiarietà e welfare integrativo. Un messaggio, quello della Fisaskat, rilanciato proprio a Danzica, città simbolo della Polonia, dove nel 1980 è nato il movimento di Lec Valesa, Solidarnosc, grazie alla solidarietà fra tutti i lavoratori che ha combattuto ed ottenuto il diritto ad un sindacato libero in un mondo ancora sotto cortina. Una solidarietà che un'Europa Commerce ha voluto estendere ai lavoratori di Oshanna in tutta l'Unione, i cui diritti sono minacciati dalla disdetta della contrattazione e dalle procedure di licenziamento avviate per recuperare la perdita di fatturato. Per la nostra rubrica dai territori facciamo tappa in Sicilia. A Taormina la Fisaskat ha siglato l'accordo integrativo per il prolungamento della stagione turistica da marzo a dicembre per i lavoratori del San Domenico Palace Hotel. Si tratta di una intesa dal grande valore simbolico e che prolunga il periodo di assunzione del personale stagionale, oltre gli otto mesi, assicurandone anche l'accesso ai nuovi sussidi universali. Ha dichiarato Pancrazio Di Leo, segretario generale della Fisaskat di Messina. Con l'accordo è stato garantito anche il diritto di precedenza nominativo sulle riassunzioni, una salvaguardia in più per i tanti lavoratori del nostro territorio, ha aggiunto. Obiettivo della Fisaskat rimane quello di allargare il più possibile l'accordo sulla destagionalizzazione a tutte le altre strutture ricettive della provincia, anche finalizzando le intese all'applicazione normativa della nuova assicurazione sociale per l'impiego. Ed ora in Calabria, dove riesplosa la vicenda dei lavoratori della cooperativa sociale Ciarapanì, senza stipendio dal dicembre dello scorso anno, come ha denunciato la segreteria regionale della Fisaskat. Oltre alla riduzione oraria di conseguenza del reddito legata alla riduzione delle commesse da parte della Multiservizi, i ritardi nei pagamenti sono ormai diventati cronici, spiega il segretario generale Fortunato Lopapa. Ritardi che ricorda Lopapa, la cooperativa sociale Ciarapanì rinvia alla Multiservizi, la quale non ha rispettato il pieno di rientro sottoscritto lo scorso dicembre, oltre a non aver provveduto al pagamento delle fatture del primo quadrimestre del 2015. Il segretario della Fisaskat, CISL, si augura che prima del 31 luglio 2015, data di scadenza dell'affido diretto del servizio di raccolta differenziata porta a porta alla cooperativa, sia pronto il nuovo bando di affidamento, con il conseguente passaggio dei lavoratori che da 12 anni svolgono egregiamente il proprio lavoro. Tappa in Puglia. Taranto si è svolto il sit-in di proteste dei 180 lavoratori della società Multiservice, addetti ai servizi di pulizia presso le sedi universitarie di Bari e Taranto, per i quali non sussistono le garanzie sulla prosecuzione dell'appalto. L'ultimo incontro si è concluso infatti con un verbale di mancato accordo, ha spiegato Antonio Arcadio, segretario generale della Fisaskat di Taranto. A tutt'oggi, ha spiegato, non è stata individuata l'azienda che gestirà l'appalto delle pulizie dal 1 giugno 2015. L'auspicio della Fisaskat provinciale che si faccia più presto chiarezza sul futuro occupazionale degli addetti coinvolti. Sono 24 i lavoratori della Cooperativa Sociale di Monterosso che a Bergamo ha gestito finora il servizio ASA presso la casa di riposo del Gleno, che hanno ricevuto la lettera di licenziamento. La Fondazione Carisma, proprietaria dell'istituto, ha infatti comunicato il recesso dal contratto a partire dal prossimo 30 giugno. Dopo quasi 20 anni di lavoro, svolto sempre con perizie ed attenzione, vengono mandati a casa lavoratori, prevalentemente donne, assunti a Dalla Monterosso a tempo indeterminato, ha dichiarato Alberto Citerio, segretario generale della Fisaskat di Bergamo. Faremo di tutto affinché non si disperda tutta questa professionalità. La salvaguardia dei posti di lavoro non è purtroppo un obbligo di legge, ma un obbligo morale, ha concluso. Chiudiamo la nostra rubrica dai territori con una notizia che arriva da Pesaro, dove gli enti bilaterali del commercio e del turismo, costituiti dalle federazioni sindacali territoriali Fisaskat, Filcams, Wiltux e la Conf Commercio Locale, hanno deliberato l'erogazione di nuovi servizi e sussidi, gli interventi in materia di assistenza e formazione, promozione economica del territorio e valorizzazione dell'offerta turistica. Positivo il commento della Fisaskat territoriale. Attraverso la commissione di verifica dei piani formativi e l'osservatorio, avremo anche un ruolo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'Istituto Contrattuale dell'Apprendistato, ha dichiarato il segretario generale Domenico Montillo. Il nostro è un esempio di bilateralità che eroga servizi. Ci salutiamo, vi ricordiamo che è possibile consultare il TGLab anche su Facebook e su YouTube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter at Fisaskat. Per segnalazione e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo mail redazione tglab-fisaskat.it Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. Dopo sette anni di crisi le promesse non bastano più per alzare i salari e le pensioni. Vieni a firmare in tutte le città italiane la legge d'iniziativa popolare promossa dalla CISLA. Un bonus fiscale di 1000 euro all'anno in più per i lavoratori dipendenti e autonomi, i giovani collaboratori, i pensionati. Zero tasse sulla prima casa, un nuovo assegno familiare, più servizi per chi ne ha bisogno. Firmiamo la crescita per un fisco più equo e giusto. Firma anche tu per cambiare il paese.